Mi chiamo Donato Lanati e ci troviamo in Piemonte, nel Monferrato, in questo centro di ricerca che si chiama Enosis. Io fui portato qui nel Monferrato quando avevo 8 anni da mio padre che era stato invitato a una battuta di caccia ed essendo con mia madre sono stato sguinzagliato in un vigneto dove ho visto dei grappoli luminescenti di colore blu. Era settembre e queste viti erano di barbera, le toccai, mi accorsi che le piante di vite erano vive e decisi di diventare in quel momento un enologo. Io sono stato affascinato da questo territorio e quindi ci sono venute a abitare e dopo gli studi universitari ho cercato di formare una squadra di specialisti e con loro di studiare l'assino perché noi riteniamo che l'assino sia il laboratorio biologico all'interno del quale avviene proprio la sintesi del territorio con la varietà. La ricchezza dei vini italiani sono i vigneti e i territori e la sintesi di un territorio in andamento climatico si racchiude dentro un asino d'uva. E' proprio dentro l'assino che si formano tutte le sostanze di qualità che daranno il colore, il profumo e il gusto di un vino. Il vino è una bevanda eccezionale che ha accompagnato l'uomo in tutta la sua storia, ma non è soltanto colore, gusto e profumo ma è tradizione, geografia e stimola molta emozionalità. La testimonianza che la vitivinicoltura nella storia hanno fatto parte e hanno caratterizzato la civiltà contadina del Piemonte sono gli Infernot, i quali sono le protuberanze delle cantine di vinificazione. In questi Infernot scavati nel tufo venivano conservati tutti i vini più importanti. Questa è una cantina sperimentale in cui noi verifichiamo che tutto ciò che ci hanno promesso le analisi dell'assino e le analisi condotte sul vigneto diano effettivamente una qualità nel vino. Quindi selezionate le particelle che promettono dei vini di eccellenza, piccole partite vengono vinificate qui in particolari contenitori che abbiamo chiamato Genesis. Questo è un laboratorio di controllo qualità in cui oltre alle analisi di base si valuta l'aspetto salutistico e la costanza della qualità di un vino, perché la forza di un marchio, di un'azienda, si basa proprio sull'effettivo controllo della propria qualità e di una costanza che viene trasferita al consumatore. Qui ci troviamo in un laboratorio strumentale di ricerca applicata dove vengono misurate le molecole di qualità del vino e qui questi strumenti ci permettono di identificare quante molecole ci sono e di che tipo sono. Questi strumenti hanno lo scopo di permetterci di capire se queste molecole sono in equilibrio, perché sono in equilibrio se raggiunge la grande armonia e quindi per poter competere con i vini internazionali più blasonati noi dobbiamo avere grande qualità ma batterli sull'armonia.